Amici di Scrivo Napoli, amici di Contrasto TV, ben ritrovati. Il Napoli vince in maniera netta contro una delle squadre più in forma del campionato, la Sampdoria, e infligge un distacco pesantissimo alle squadre che rincorrono, Inter, Roma e Milan, staccate di tantissimi punti. Questo non fa che aumentare il rammarico per come è stata gestita la Coppa Italia da parte di Ancellotti e della sua squadra, con una sconfitta inopinata contro il Milan, anche per come sono andate le cose con le dirette concorrenti, con Inter, Roma e Juventus eliminate. Il Napoli avrebbe avuto probabilmente una corsia preferenziale per poter vincere una competizione che avrebbe dato prestigio e lustro ad una stagione comunque importante che riserva ancora un obiettivo fondamentale che è quello dell'Europa League. In campionato intanto la Juventus perde qualche colpo dopo la sconfitta in Coppa Italia, pareggia in casa con il Parma, adesso dire che il campionato è stato riaperto è un azzardo perché nove punti sono tantissimi, forse troppi da recuperare alla Juventus, però se non altro la Juventus dimostra di non essere una squadra schiacciasassi come lo è stata fina dura. Quindi il Napoli dovrà essere bravo ad approfittare di eventuali quanto improbabili crolli juventini senza lasciare nulla di intentato, senza avere il rammarico di non aver provato fino alla fine di dare fastidio alla Juventus. Il sabato naturalmente è stato caratterizzato dalla notizia dell'addio di Marek Amsic al Napoli, una partenza che naturalmente dal punto di vista tecnico e umano non può che dispiacere perché Amsic ha dato 12 anni della sua carriera, 12 anni di gioia e di grandi prestazioni nel Napoli e adesso va via, va a giocare in Cina, evidentemente una scelta motivata dal giocatore e anche della società. Si è voluto chiudere prima un rapporto che andava piano piano svilendosi. Amsic si era reso conto di non essere più al centro del progetto Napoli, si è voluto evitare che si facesse con Amsic. La fine, per esempio, ingloriosa che ha fatto Totti con la Roma è anche ingiusta nei confronti di un campione come Totti. Sarebbe stato ingiusto che Amsic finisse nel dimenticatoio nel Napoli. Arrivederci a presto ad Amsic che magari tornerà come dirigente e noi ci vediamo la settimana prossima.